L'intervento di efficientamento energetico da 315 mila euro al Teatro Galeotti e quello alla Scuola dell'Infanzia Marsili si sono chiusi con mesi di anticipo ed è stata completata anche la sistemazione della frana di Castello, una grande opera da 700 mila euro. Buone notizie dai cantieri PNRR del Comune di Pietrasanta, lo dice la cabina di regia incaricata dall'amministrazione di monitorare lo stato di avanzamento delle opere. Secondo i tecnici tutti i lavori procedono come da cronoprogramma, inclusa la realizzazione della nuova scuola a Tonfano per 5,7 milioni di euro e il recupero dell'ex camp per 5 milioni di euro. Intanto è andata a gara la bonifica dell'ex EDEM a Val di Castello Carducci e dovrebbero partire a giugno i lavori per il terzo lotto di messa in sicurezza della frana di Capriglia. L'amministrazione però non si accontente ed è già a caccia di nuove risorse per realizzare nuovi spazi per l'attività motoria, per gli interventi di sistemazione delle frane sulle strade e per l'efficientamento sismico ed energetico delle scuole cittadine. Grazie a tutti.